La medaglia, queste arrivano tutti dal coni nazionale, che è una medaglia al valore sportivo. Anche questa è pronta, perché io te lo apro, perché è l'oro avviva quando si vince la medaglia olivica. Speriamo che questa sia soltanto la medaglia. Grazie. Il testimonial sarà in grado di spiegarci cos'è questo regolamento sulla doppia carriera. È un regolamento molto importante, perché comunque sia ci venga un incontro con la disposizione di un tutor, un tutor appunto di un piano di studi diverso, che comunque sia viene a favore delle nostre esigenze sportive. Perciò è veramente un programma efficiente. Hanno scelto il testimonial giusto? Sì, sì, va bene. Voi siete in partenza per la Corea? Sì, partiamo per questa nostra prima università, ed è il nostro primo anno di università conosciuto, e siamo molto felici di partecipare, di prendere parte. Tu andrai nella patria del Taekwondo? Esatto, infatti per me è una grande soddisfazione, soprattutto quando ho saputo che sono in Corea, sono stata molto felice. Tu in partenza anche? Sì, io diciamo che ho impegni quasi ogni weekend questo mese, parto prima per Torino per i campioni italiani assoluti, e successivamente per i giochi europei di Baku, e poi finalmente l'università di Luglio. Ti cambierà la vita questo programma? Spero proprio di sì. Spero proprio di sì.